Musica Escarna l'agenda dell'Aula di Montecitorio. In programma solo interpellanze urgenti a partire dalle 12. Si è svolta questa mattina nel Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica l'audizione del Direttore della Ise, l'Agenzia Informazione e Sicurezza Esterna. Il generale Adriano Santini riferirà sulla situazione in Libia. Sconvocate la maggior parte delle commissioni di Montecitorio. In programma per oggi inizia una lunga pausa per le attività parlamentari in vista delle elezioni amministrative. I lavori riprenderanno martedì 17 maggio. Quando la patria non è la terra dei padri. È il convegno che si svolgerà alle 16 nella Sala della Lupa in occasione della pubblicazione del rapporto di Save the Children in Italia. Interverrà il presidente della Camera Gianfranco Fini. Interverrà il presidente della Camera Gianfranco Fini.